Il volume è abbastanza grande, over. 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 Per esempio la corda vibrante continua a vibrare perché non c'è più questa forza che la tira verso il basso. Quindi da un certo punto di vista si cambia il comportamento, over. È bella la terra da qua sopra. Siamo in questo momento sopra il Mediterraneo, da vicino alla Sardegna, qua sotto il Tirreno. È molto, molto bella. Ha le colonna di Sardegna e sembra un posto meraviglioso. Over. Giovanni, ho visto gli astronauti americani saltellare sulla luna e ho detto che voglio fare l'astronauta. Un pochettino in questo senso di andare a cercare cose nuove, fare cose, fare queste sfide e cercare di conquistarle se possibili. Over. Vittoria, siamo adesso quasi sulla vostra verticale. Vedo l'isola d'Elba sotto di me e quindi siamo sulla vostra verticale. I colori sono bellissimi, sono blu del mare e un bel di manutenza di terra. Molto bello, over. Fuori dall'atmosfera, Nicola, non ci sono rumori. All'interno della navicella ci sono tutta una serie di ronzii perché apparecchiature che funzionano in continuazione. L'aria è continuamente filtrata e quindi ci sono rumori in continuazione. Over. Ed era, penso che sì, guardando sotto ho un pochettino di nostalgia. Vedo tutti questi posti bellissimi come il vostro adesso e mi viene voglia di venire. Mi manca sicuramente il cibo, i sapori, gli odori e il calore del sole. Over. Eh sì, Marco, la forza di gravità ha una forte influenza su di noi, cambia come si distribuisce le sangue nel corpo, i fluidi nel corpo e c'è anche una perdita di calcio nello scheletro con una perdita di massa muscolare. Quindi sì, avvengono dei grossi cambiamenti. Over. Ma, eh, Claudio, abbiamo una specie di farmacia a bordo con tutto quello che si deve avere per, eh, per intervenire in casi di emergenza. E noi, se bene non siamo medici, siamo addestrati a intervenire. In caso di 0, vera e meravigliere in caso di 0, vera e meravigliere, ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti.